A Gatteo Amare torna Matti per il calcio, il torneo dove a sfidarsi sono i pazienti dei centri di salute mentale arrivati da tutta Italia. Si chiama Matti per il calcio ed è un torneo speciale perché coinvolge i centri di salute mentale da tutta Italia sul campo di Gatteo Amare. Filippo Vendemmiati. Pulito, senza falli, senza cattiverne. Perché l'importante è divertirsi, divertirsi e giocare bene. Va pensiero, tempesta, insuperabili, terzo tempo, nomi fantastici per un torneo di calcio fuori dalle regole nei campi federali di Gatteo Amare, Cesenatico. Intervista tra primo e secondo tempo, quanto state vincendo? Sicuramente siamo 8 a 0. Imbattuto? Sì. Meglio del previsto? Eh beh, siamo partiti bene, dai. Hai fatto qualche parata? Sì. Vai, vai. Matti per il calcio, organizzato dall'UISP, formazioni provenienti dai centri di disagio mentale di diverse regioni italiane. Abbiamo una rappresentanza che va dai 20 ai 60 anni, un insieme di operatori, dottori, pazienti e anche familiari. Cerchiamo di conoscerci, facciamo girare la palla, un tocco massimo due e la diamo via. Meno scartare, darla più prima, senza troppi giochetti, perché quando hai fatto due volte, il terzo te lo prendono. Tre gironi, partite con due tempi di 20 minuti ciascuno, le finali sabato prossimo. Un arbitro severo? No, 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 no. A me mi piace parlare con loro e discutere la situazione. Senza VAR? Senza VAR è meglio però, fanno più errori col VAR. Chi si ispira come difensore centrale? Ha qualche modello? Un difensore tipo un Koulibaly, perché è un uomo che ha voglia di continuare a gioco, divertire e cercare di aiutare tanto i compagni.